Ciao, sono Roberto Pezzini, vengo da Gubbio, ma sono originario di Milano. Sono qui al premio Città di Queliano, nonché premio nazionale per la canzone d'autore emergente. Per la seconda volta, ho partecipato anche l'anno scorso, nel 2021, e quest'anno sono di nuovo qui con un'altra canzone, ovviamente, che si intitola Una canzone per noi due, che sarà inserita nel mio secondo album, che sto mixando e quindi a breve sarà pronto. Che altro dire? Buona fortuna a me e un saluto a tutti. Ciao, ciao. Grazie a tutti.